Ben trovati a tutti, vi auguro una felice e una santa vita gente. Ci troviamo sempre qui insieme a pregare una decina del rosario. Oggi celebreremo il primo mistero dei misteri appunto del dolore e lo faremo pregando come sempre per le vostre intenzioni di preghiera e per ciò che portate nel cuore. Ma entriamo subito nel vivo senza perdere tempo, cominciamo la nostra preghiera insieme per le vostre intenzioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel primo mistero del dolore, contempliamo l'agonia di nostro Signore Gesù Cristo nel Gezzemani. dal Vangelo di Luca. Padre mio, se possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Affidiamo al Signore ogni vostra intenzione di preghiera, tutto ciò che portate nel cuore, le croci, i dolori, ma anche le gioie della nostra ordinarietà. E preghiamo in modo particolare in questa decina per tutte le famiglie del mondo, anche quelle che stanno vivendo un momento di croce, di dolore e di difficoltà. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria, regina della pace, prega per noi e per il mondo intero. Salve o regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Or su dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, o Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. E per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano. E guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. E come sempre, prima di invocare la benedizione di Dio, preghiamo per il Papa, per le sue intenzioni per la Chiesa e per l'acquisto delle indulgenze. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ci affidiamo all'intercessione di Maria Santissima. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto al frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come sempre, quando siamo riuniti qui in preghiera e in condivisione, non ci vogliamo dimenticare di pregare per le anime di tutti i nostri fratelli e sorelle defunte, ricordando in modo particolare le anime dimenticate dal purgatorio e tutte le persone che sono tornate o torneranno oggi alla casa del Padre. Preghiamo quindi per loro. L'eterno riposo, donà loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo, donà loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Come sempre, a conclusione della nostra preghiera, invochiamo e imploriamo la benedizione di Dio. Sognano di noi sulle nostre vite, le nostre famiglie. Chiediamo che Dio benedica tutti coloro che si affidano alle nostre preghiere. Per intercessione di Maria Santissima, tutti sofferenti nel corpo e nello spirito, chiediamo che il Signore benedica al mondo intero. Il Signore sia con voi. Per intercessione di Maria Santissima vi benedica Dio Onnipotente, Padre Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio. E terminata la nostra preghiera, non andate via perché voglio ringraziarvi. Grazie a voi per essere stati qui a condividere la preghiera, una preghiera che è in relazione con Dio, che se glielo permettiamo cambia anche le relazioni tra di noi. Lo sappiamo bene, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, dice il Signore, io sono in mezzo a loro. Forti di questa speranza che diventa una certezza, continuiamo il nostro cammino di conversione del cuore e di preghiera insieme. Quindi grazie a voi, grazie a chi vedrà questo video dopo, attraverso il grazie a voi, chiaramente passa come sempre il mio grazie a nostro Signore Gesù Cristo, che ci permette di stare insieme anche in questo momento, anche attraverso questo strumento. Grazie quindi, vi aspetto ai prossimi appuntamenti sempre qui, alle tre tutti i giorni trovate un video che uscirà con un momento di preghiera, che sia la decina del rosario, il rosario completo, la coroncina della divina misericordia, oppure che può essere la via crucis o altri momenti di preghiera insieme, quindi ogni giorno alle 15 trovate il momento di preghiera. E poi altri momenti, sia video lunghi che shorts che dirette di preghiera insieme. Quindi se volete iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, chiaramente non costa nulla, questo ci tengo a sottolinearlo, su questo canale non trovate niente a pagamento, proprio perché quando posso condivido la mia preghiera personale che comunque farei con ciascuno di voi, o in diretta oppure registrata, ma quindi non costa nulla. È semplicemente un promemoria che vi avvisa quando escono nuove cose sul canale, nuovi video, post, video lunghi, shorts, dirette e via dicendo. Quindi se volete iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, se volete mettete mi piace, commentate con le vostre impressioni, scusate, con le vostre intenzioni di preghiera, condividendo quello che volete, chiaramente non cose offensive, e anche condividendo ciò che il Signore opera nella vostra vita. E condividete i video, se volete aiutarmi a rendere virale la gioia della preghiera. Penso di avervi detto tutto, ci vedremo sempre qui con i prossimi appuntamenti insieme, e come sempre vi auguro una felice e una santa vita, gente!